Io faccio un mestiere diverso da loro, perché io faccio un professor, faccio finta di fare l'esperto, in realtà non lo sono più, sono molto più esperti di loro, i 15 di cui parlava Mirko prima sono sicuramente molto più esperti di me e io a questo punto faccio quello che il mio ruolo mi impone di fare, quindi di cercare di guardare un po' più da lontano questi fenomeni e cercare di capire se ci sono dei meccanismi che possono essere interessanti e possono essere utili e possono essere riutilizzati, al di là degli oggetti. Il titolo era bello ma non mi ci stava sulla slide, perché qua tutti parliamo di strumenti e di tanto penso di lavorare in una ferramenta. Tutti parliamo di strumenti e ci sono alcune cose che partendo dalla considerazione sugli strumenti a me verrebbe in mente di fare e su cui ora cerco di annoiarvi un po' intanto che. Primo, gli strumenti sono pericolosi, se li sapete usare bene, se no vi fate male. Secondo, se voi chiedete all'idraulico di venire a casa, lui arriva con la sua bella cassettina degli attrezzi, non è che arriva in jeans e maglietta e tira fuori il coltellino svizzero. Quella che io ho chiamato da un po' di tempo in qua sindrome del coltellino svizzero è quella che accompagna molti degli atteggiamenti che io vedo nei confronti degli strumenti digitali. Pensare che ci sia la cosa che va bene per tutto, non è vero? Strumenti sono questi. Molta della chiacchiera che vi faccio ora deriva da una delle mie primissime esperienze appena laureato ormai, ancora in epoca storica, i dinosauri erano già estinti, le glaciazioni finite. Appena laureato, io ho fatto un paio d'anni, io mi sono laureato in fisica, insegnavo matematica in una scuola professionale per meccanici, tre anni dopo le medie, quindi ragazzini dai 12 ai 15 anni. Questi vivevano la maggior parte del loro tempo in un ambiente così, questa era la scuola. E io mi ricordo di essere rimasto molto stupito dal fatto che all'inizio dell'anno, del primo anno, il loro insegnante di laboratorio, come si chiamava, passasse dei mesi a portarli in giro per l'officina, a mostrargli le macchine, a fargli capire come muoversi lì dentro, a fargli vedere dove erano i vari pezzi, prima ancora di cominciare mettergli in mano una lima. Mesi passati a capire qual era l'ambiente in cui dovevano poi vivere e lavorare. E questo è uno dei risultati, questo oggetto qua è fatto a mano, me lo regalarono, era la prova d'esame. Se qualcuno di voi ha idea di che cosa vuol dire tirare di lima sa cosa vuol dire fare un oggetto di questo tipo. Questo vuol dire conoscenza dell'ambiente e conoscenza degli strumenti. La passione per CSI si vede. Ora, se io devo parlare di ambiente, comincio con una metafora. La mia metafora parte da qui, questo qui è un posto splendido, forse alcuni di voi lo conoscono. No, non è di qua, di un'altra parte, ma interessa poco. Uno splendido lago, con una bella isoletta, una bella chiesa in mezzo. Io posso vederlo in milioni di modi diversi. Però una cosa sicuramente non posso vedere qui, qui non posso vedere acqua, sassi e pietre. Perché questo è molto di più che non acqua, sassi e pietre. Se io provo a prendere un po' d'acqua dei sassi e delle pietre non riesco a riprodurre un oggetto del genere. Perché c'è qualcos'altro che mi lega a questi oggetti. Allora se io mi avvicino un po', vedo che esistono milioni di componenti che fanno sì che quell'acqua, sassi e pietre poi diventi un lago con un bosco e un ambiente vivibile. C'è un ecosistema che è un oggetto particolarmente delicato. Se io lo conosco riesco a mantenere quel lago in quelle condizioni. Se non lo conosco torno a acqua, sassi e pietre. In alcuni sistemi non esistono elementi importanti o elementi poco importanti, sono tutti fondamentali. La catena alimentare che è quello che tiene in piedi il mio ecosistema è un insieme intricato di relazioni fra i vari elementi. Se io ne prendo uno e gli tolgo i collegamenti dagli altri, non solo lui sparisce, ma mi sparisce tutto il sistema. E di queste cose ne abbiamo viste milioni. Un sistema turistico lo posso leggere in questo modo, se io vado a vedere le definizioni fondamentali scopro che un sistema turistico è fatto da un certo numero di pezzi, persone, oggetti, ambienti, eccetera, eccetera, legati in qualche modo con un certo obiettivo che è quello di soddisfare il turista sviluppando il sistema in un certo modo. Tendenzialmente finora abbiamo pensato a questi sistemi come oggetti spaziali, oggi non pensiamo più che siano solo spaziali. perché nel frattempo quello che è successo nel mondo tecnologico ci fa cambiare completamente prospettiva e ci fa pensare che qui ci siano elementi che non possono essere legati direttamente alle definizioni classiche e ci fa pensare che come in molti altri mondi io veda questo sistema come un oggetto allargato o meglio costruito a blocchi e a strati successivi, c'è un elemento centrale ma poi c'è tutto il resto, c'è l'ambiente circostante. Ho i miei core stakeholder ma poi ho anche il resto e di questi oggetti e di queste relazioni devo tener conto. La parte digitale diventa estremamente importante, lo sappiamo non volevo ridire ma diventa estremamente importante perché ha un doppio ruolo, quello di facilitare una certa serie di cose, di operazioni, ovviamente influenzato da quella che è la struttura del sistema che la parte digitale serve. Le due cose non possono essere stravolte, se io non ho un sistema organizzato in maniera decente non riuscirò mai a utilizzare la parte digitale in maniera coerente e questo potrebbe spiegare molti dei fallimenti di alcuni programmi ma andiamo avanti. Ci siamo arrivati a un livello di questo tipo, ci siamo arrivati per passi successivi, la parte digitale si è evoluta, a volte sembra prendere sopravvento, a volte sembrano scapparci di mano, in realtà vale sempre questo discorso, sembra prendere sopravvento ma è strettamente legata ai meccanismi e i modi di funzionamento del nostro sistema. Se io parlo di ecosistemi ci sono tre aspetti che sono fondamentali e che mi interessa capire a me da studioso perché da un punto di vista intellettuale è estremamente affascinante studiare questi problemi ma anche perché poi queste cose si riflettono direttamente nel mondo reale e nel mondo pratico. Il primo elemento riguarda la stabilità del sistema o l'instabilità del sistema, il secondo riguarda l'efficienza che è un po' slegata ma è abbastanza collegata e il terzo riguarda come faccio io a gestirlo, riguarda quali meccanismi posso mettere in atto per far sì che il sistema faccia il suo dovere. Stabilità, ora il discorso è un po', facciamo così, conoscete questo oggetto, l'A380 è un oggetto splendido, viaggiate tranquilli, sicuri, è un oggetto estremamente stabile, non risente di turbolenze come gli aerei, perfetto. Sembra un oggetto ideale per girare per i cieli, però dipende, perché se io sono alla guida di un apparecchio volante e qualcuno dietro di me comincia a urlare banditi a ore 7, io non voglio un oggetto di questo tipo, voglio essere in grado di muovermi il più rapidamente possibile. Se io ho un oggetto così stabile sono finito, non ho nessuna possibilità di scappare e allora ho bisogno di disegnare qualcosa che sia per sua natura e per sua costruzione instabile. L'F-16 è stato il primo aereo, se conoscete un po' la storia, a disegnare, ad essere disegnato e progettato per essere instabile, faticosissimo da guidare in condizioni normali ma è l'unico che vi permette di affrontare certe situazioni. Vi ricordate un po' di termodinamica? Sapete che se io prendo un corpo caldo e uno freddo, cosa succede? Se li collego ho un passaggio di calore da quello caldo a quello freddo. Questo passaggio di calore è quello che io posso utilizzare per convertirlo in energie meccaniche e viceversa. Tutte le nostre macchine funzionano così. In un modo e in un altro trasformano o lavoro meccanico in quantità di calore o viceversa. La cosa importante è che se io qui raggiungo l'equilibrio mi fermo. Se raggiungo l'equilibrio stabile il mio sistema non produce più niente. Se io prendo, non avete mai giocato con uno di questi? Questo oggetto qui sembra un sistema completamente isolato. In realtà non lo è, perché se non gli fornite almeno una fonte di luce, questo oggetto è quindi un collegamento con l'esterno, con il mondo esterno. Questo oggetto qui non vive molto. Quando io prendo un sistema, lo isolo completamente e penso di riuscire a farlo sopravvivere, faccio la cosa peggiore che io possa immaginare. Perché è un sistema completamente isolato e che non scambia con l'ambiente circostante, raggiunge un equilibrio perfetto, cosa che i miei colleghi economisti sognano, però muore. Io so come studiare e controllare i sistemi, perché io so che per qualunque sistema complesso posso agire su certi parametri che mi permettono di far evolvere il sistema e posso andare da situazioni in cui il comportamento è completamente stabile a situazioni in cui il comportamento oscilla fra certi valori a situazioni però in cui diventa completamente caotico. E ho una piccola zona fra i comportamenti più stabili e quelli completamente caotici in cui il mio sistema si comporta in un certo modo e che è la zona, diciamo, la zona di stabilità ideale per il mio sistema, quello che mi permette di riuscire ancora a esercitare un minimo di controllo e quindi a gestire il sistema, però tenerlo in maniera ancora dinamica in modo da potersi adattare a quello che succede intorno e da poter evolvere e crescere. Grazie. Grazie.